Ragazzi, è arrivato il nuovo commissario, tutti in piedi. Salve ragazzi, salve. Tu sei? Agente Claudio Caruso, sono un palco. Ah, buon appetito. Tu? Agente Rizzo, anche io sono un palco. A dieta però. Tu? Sovraintendente Alipertistella, commissario. Riposo, riposo. E lui è russo. Ah, russo? Sì. Si occupa di pratiche, denunce. Scartoffie? Sì. Sei contento? Sì. Sì. Tu sei? Gianni. No, il cognome. Gianni. Ah, Gianni è il cognome? Eppure il nome. Gianni Gianni? No, solo un Gianni. Ma sei scemo? No, Gianni sono.